Solo l'arte può cambiare, soprattutto perché è il esempio visuale più potente per la società, di come può essere. Grazie all'arte, in questo caso grazie alla danza, non mi tengo che conformare con questa realtà. Puedo creare una realtà o una vita a partir dello che faccio. La danza per me non è il palcoscenico, la danza è proprio la pratica quotidiana. Sento proprio l'esigenza dopo un po' di muovere il corpo sulla musica, è questo che mi fa stare bene. Per me la danza è una cura forse. Esprimermi e collaborare con amici, persone che mi aiutano anche a vedere le cose diversamente. Conoscere, scombustolare, mischiare tutto. Questo è il mio bisogno nell'arte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.